Oltraillustrazione animale. Nemico in arrivo! Quanti sono? Uno! Il villaggio della Foglia ha deciso di contrattaccare, ma evidentemente non ha avuto modo di prepararsi come si deve. Forza, fa uscire subito il primo squadrone e liberiamoci di questo scocciatore. Agli ordini! Primo squadrone e prepararsi al lancio! Uno, due, tre e quattro. A quanto pare il nemico si è accorto solo di me per il momento.